della sedicesima stagione webinar. Questi webinar sono webinar gratuiti e non sono sponsorizzati. I prodotti di cui parlo eventualmente e ovviamente trattando con applicazioni informatiche e parlando di creazione di contenuti, è ovvio che abbiamo a che fare con delle applicazioni, beh le applicazioni di cui parlo sono solo mie scelte. Anche il canale di YouTube non monetizza. Potete intanto trovare nel blog albertopian.it, trovate due articoli che ho proprio messo per voi. Abbinare l'equalizzatore a 31 bande, Da Vinci per il podcasting e poi avete un'altra scheda, un effetto di base per il controllo della registrazione audio con Da Vinci, l'equalizzazione e la compressione, che in questo caso sono riunite in un'unica funzione di effetti di Da Vinci e qui avete la spiegazione. Avete anche un'altra spiegazione su un marchingenio assolutamente stratosferico, un equalizzatore a 31 bande di cui vi dirò cose importanti come per l'effetto precedente, ma diciamo non faremo delle prove ecco sul campo. Ho scritto questi tre libri quest'anno, quindi sono del 24. È stata una grande fatica, sono libri estremamente impegnativi. Fino all'estate sono in offerta a metà prezzo in bundle. Trovate sempre sul mio sito tutte le indicazioni per poterli acquistare. Sarà attivo un corso professionale, quindi rivolto a professionisti, a creatori di contenuti che operano in ambito di podcasting o che vorrebbero operare in ambito di podcasting. Ci sono aperte le pre-iscrizioni, è un corso a pagamento del marchio Podstar con il quale collaboro. Il corso sarà erogato poi quest'autunno, ma da adesso eventualmente ci si può iscrivere. Fino al 15 luglio avete la possibilità di iscrivervi al 40%. Chi di voi è insegnante, docente, sappia che sto preparando una specie di master, di cui poi avete notizie, per un podcasting invece orientato all'insegnamento alla didattica. Questo non è orientato all'insegnamento alla didattica, è orientato proprio alla creazione professionale di contenuti. Allora, questo è il programma del nostro webinar di oggi. Prima di tutto affrontiamo un tema nuovo, credo di essere uno dei primi a parlarne, perché c'è un dibattito, un dibattito che arriva dagli Stati Uniti. Questo dibattito si riassume in due termini, first audio, first video. Cioè normalmente la linea seguita in vent'anni di podcasting è che devi stabilire qual è il canale prioritario, se creazione di contenuti, quindi il tuo contenuto è rivolto prioritariamente a un canale audio oppure il contenuto è rivolto prioritariamente a un canale video. Questo è evidente perché sono due modi di interloquire con un prodotto che sono completamente diversi. vedete questo soggetto, immagina, sogna, ma lo fa in modo diverso. Se vede, perché nel momento in cui vede, chiaramente ha un'immagine che parla, se vede una gelateria non può dire che sia una macelleria. Dovremmo chiamare uno bravo se insiste in questa cosa. Naturalmente però se ascolta e se la trasmissione non è creata con la dovuta cura, può anche darsi che confonda il rumore di una gelateria con quello di una macelleria e che dunque sia confuso. In ogni caso, nel momento in cui voi vedete una gelateria e tutti noi vediamo quella gelateria, beh, abbiamo un elemento comune che è determinante, su quale è difficile poter discutere, perlomeno riferendoci all'oggetto. Se invece ascoltiamo, beh, tutto può essere opinabile, quindi l'immaginario del soggetto deve riempire i buchi che la vista ha lasciato. Questo, adesso non possiamo dilungarci su questo discorso, ma ha a che fare con il rapporto tra significante e significato di una lingua e con il codice, dall'altro lato, il codice visivo. È chiaro che, diciamo, la linea fondamentale ancora oggi è seguita e che si tratta di due prodotti differenti. Produciamo per il video, produciamo per l'ascolto, quindi con due catene produttive diverse, tipologie anche di sceneggiature, strumenti, eccetera, eccetera. Beh, oggi io penso che questo naturalmente rimane vero, non voglio dire assolutamente di no, si tratta proprio di linguaggi differenti, ma da un punto di vista della creazione di contenuti che sono erogati in tutta una serie di canali, pensate TikTok, Instagram, Pinterest, YouTube, eccetera, eccetera. Questa distinzione, dal punto di vista del creatore di contenuti, non è più così fondamentale o, diciamo, non è più così determinante. Anzi, oggi, oggi il creatore di contenuti deve porsi il problema di una multicanalità integrata, cioè di come integrare all'interno di diverse uscite, canali, media, un contenuto. Naturalmente noi non ci occupiamo di come si può pensare a scrivere una sceneggiatura, una storia, eccetera, eccetera. Ci occupiamo solo ed esclusivamente di alcune questioni che riguardano la tecnica e questa tecnica tocca sia le persone, come dire, profane, no, inesperte, quelle che usano i dispositivi e producono contenuti a loro volta, sia le persone anche che lavorano in contesti professionali. Quindi parliamo anche con studi di registrazione professionale che registrano podcast piuttosto che sound designer e così via. Perché? Perché c'è un problema comune. Il problema, come dicevo prima, è che delle due l'una. O si aumentano i budget e il tempo a dismisura per realizzare produzioni totalmente differenziate in un campo o nell'altro, oppure si utilizzano delle applicazioni degli strumenti che consentono più rapidamente di uscire nei diversi canali. E' chiaro che il profano, per esempio, utilizza CapCut. Quindi ecco il motivo per cui oggi lo vediamo, diamo uno sguardo veloce. CapCut è una o l'applicazione più utilizzata per chi edita video, registra, registra un filmato, aggiunge degli effetti, aggiunge anche delle grafiche, delle fotografie, disegni e così via. E poi lo pubblica su Instagram o su TikTok specialmente o anche in parte su Facebook o altri canali. YouTube compreso. E' l'applicazione più utilizzata in questo campo. Se hai un matrimonio, hai CapCut, puoi fare un filmatino e poi mostrarlo. Al di là dei professionisti che andranno a filmare, a fotografare il matrimonio, tante persone oggi possono disporre di strumenti che consentono anche di sperimentare la loro creatività e chissà magari di trovare anche qualche talento nascosto, di aprire una strada. Pensate anche, abbiamo molti insegnanti qui, pensate anche i vostri studenti che utilizzano queste applicazioni e magari appunto proprio l'utilizzo di queste applicazioni consente loro di scoprire qualche capacità, qualche passione, qualche talento. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che ecco che chi utilizza già un'applicazione di editing video come CapCut o come anche non so, iMovie, altre che sono a disposizione sui nostri dispositivi, ecco che può pensare di creare il suo podcast partendo da una registrazione video all'interno della quale ovviamente c'è anche l'audio, non stiamo a parlare di microfoni, è chiaro che più sei isolato, più un buon microfono, una scheda audio, è un discorso molto ampio, però diciamo che qualcuno ha intenzione di raccontare, vuole raccontare qualcosa, creare il suo podcast, ha una narrazione. È semplicissimo perché con piattaforme come rss.com i costi si abbassano in modo incredibile e quindi con pochi euro all'anno si dispone di una piattaforma per pubblicare i propri podcast. La pubblicazione è semplicissima, di una semplicità disarmante e questi contenuti possono arrivare direttamente all'interno di altre piattaforme come Spotify, come Amazon, Audible, YouTube stesso, eccetera. Quindi il profano sicuramente conosce già questa applicazione o un'applicazione simile, bene, la usi anche per registrare le sue storie audio in questo campo. Ma il professionista, cioè quello che lavora con Logic, per esempio, che lavora in uno studio di registrazione con applicazioni professionali, beh, il professionista, eccolo qua. Il professionista, vedete, questo è uno studio di registrazione, controllo editing audio ed è creato con DaVinci Resolve. Io penso che oggi il professionista non possa non conoscere anche l'impiego di applicazioni di montaggio video per la produzione audio. Perché? Perché, come dicevo prima, possono arrivare e secondo me arriveranno sempre di più delle richieste di diversificazione del contenuto. Quindi si parte da un podcast, si registra una narrazione, perfetto. Poi voglio che questa narrazione abbia anche un aspetto visivo. Dunque, qui abbiamo un flusso di lavoro che deve costituirsi. Che cosa faccio? Registro in Logic nel mio studio di cose, poi passo a un'applicazione di montaggio di editing video e aumento quindi i tempi, i costi, persone che lavorano e così via. A che livello poi devo uscire con questo prodotto? Cioè, sono tutti problemi che oggi sono posti non solo al profano ma anche al professionista. Quindi, cominciamo la parte pratica con, allora, con questa cosa. La faccio partire due secondi, mi dite solo se sentite bene l'audio. Quindi dovete solo ascoltare. Pronti? Lo sai che puoi progettare un paesaggio sonoro minimalista oppure complesso, ma non puoi rimanere... Eh? Si sente? Ok, perfetto. Allora, ripartiamo. Attenzione, ascoltate. Lo sai che puoi progettare un paesaggio sonoro minimalista oppure complesso, ma non puoi rimanere senza un paesaggio sonoro? Se elimini il paesaggio sonoro dalla creazione di tuoi contenuti, in questo caso stiamo parlando di audio, di podcasting, sarai vittima del tuo stesso paesaggio sonoro, poiché il sound escape dominerà inconsapevolmente la tua scena. Ma come? Se non lo voglio il paesaggio sonoro, non voglio niente. Niente non esiste in natura. Che cosa intendi? Intendo che non voglio musiche, suoni, rumori e effetti speciali. Voglio una cosa pulita senza nulla. E la tua voce? Quella sì, certo. E allora la tua voce sarà il paesaggio sonoro. La mia voce? È solo la mia voce? No, la questione è semplice. Se tu chiami voce la tua voce, per te sarà solo qualcosa di indecifrabile e quindi trasmetterai al pubblico indeterminatezza e mancanza di senso. Infatti la tua voce si iscrive a pieno titolo nel paesaggio sonoro che è composto da diversi elementi. Dunque, lo vuoi dirigere, orientare, costruire oppure vuoi esserne sopraffatto? Ok, bene. Allora, la domanda che io vi rivolgo è questa. Siete riusciti a seguire? Sì, ditemi pure. Siete riusciti? Sì. Ok, siete riusciti. Avete capito l'argomento? Giusto? Sì, non è una storia, cioè non è cappuccetto rosso, chiaramente. È una divulgazione in forma narrativa, una spiegazione. Però in forma narrativa c'è anche quella vocina che dice no, ma io non voglio prendere il sonoro. Ok, bene. Adesso io, lo stesso identico contenuto che voi avete ascoltato, lo mostro, lo mostro così. Questo è il montaggio realizzato appunto con Da Vinci. Voglio subito mostrarvi, farvi entrare, come dire, nel mood della questione. E adesso lo vediamo. Lo vediamo e quindi in questo modo. Lo sai che puoi progettare un paesaggio sonoro minimalista oppure complesso ma non puoi rimanere senza un paesaggio sonoro? Se elimini il paesaggio sonoro dalla creazione dei tuoi contenuti, in questo caso stiamo parlando di audio, di podcasting, sarai vittima del tuo stesso paesaggio sonoro poiché il sound escape dominerà inconsapevolmente la tua scena. Ma come? Se non lo voglio il paesaggio sonoro, non voglio niente. Niente non esiste in natura. Che cosa intendi? Intendo che non voglio musiche, suoni, rumori, effetti speciali. Voglio una cosa pulita senza nulla. E la tua voce? Quella sì, certo. E allora la tua voce sarà il paesaggio sonoro. La mia voce è solo la mia voce. No, la questione è semplice. Se tu chiami voce la tua voce, per te sarà solo qualcosa di indecifrabile e quindi trasmetterai al pubblico indeterminatezza e mancanza di senso. Infatti la tua voce si iscrive a pieno titolo nel paesaggio sonoro che è composto da diversi elementi. Dunque, lo vuoi dirigere, orientare, costruire oppure vuoi esserne sopraffatto? È un classico contenuto creato sia per essere ascoltato che per essere visto. Adesso non ci interessa sapere per quale motivo è stato creato, come si è indirizzato, eccetera, eccetera. La domanda che potrei rivolgervi è, ma non lo faccio e vi spiego perché, la domanda che potrei rivolgervi è quale delle due versioni vi ha colpito di più, quella destinata all'udito o quella destinata alla vista. Ma non ve lo chiedo perché, è una domanda che non ha senso, dal momento che tutti al mondo ascoltano e vedono. Quindi possono ascoltare dei contenuti e poi possono ritrovarseli in un canale visivo. Ma non solo. Tra di noi ci sono soggetti che sono orientati magari maggiormente all'ascolto oppure maggiormente alla vista, che nel corso del loro iter scolastico hanno scoperto di essere più visivi, per esempio, che uditivi o viceversa. Quindi abbiamo a che fare con una varietà, non solo di canali di destinazione, ma anche con una varietà di approcci delle persone stesse e dell'uso dei loro sensi. Perché escludere? Perché non immaginare che cosa vuol dire per un soggetto frequentare così tanti canali e avere a che fare con dei media che sono media visivi, che già si distinguono in grafiche, in immagini in movimento e media uditivi, con o senza paesaggio sonoro, sound design e così via. A noi non sembra che ci sia questa ricchezza, perché fondamentalmente siamo bombardati da immagini in continuazione, tra l'altro immagini che non sono certamente studiate per colpirci per la loro bellezza, diciamo così, o la loro utilità culturale. Non pensiamo a causa di questo bombardamento, ma invece questa diversificazione, anche soggettiva, esiste. E quindi l'approccio che io vi propongo non è un obbligo, no? Chiaramente è un suggerimento per tutti coloro che hanno interesse a creare dei contenuti e sono orientati realmente a una multicanalità, a mio parere devono usare un'applicazione di montaggio video. Perché? Questi qui vedete che avete la parte audio. Prima ovviamente è stata registrata la parte audio, è stata scritta e poi letta, sono stati fatti dei tagli per lasciare delle pause e poi sono state montate delle immagini che è molto semplice, sono delle icone. Per esempio questa è un'icona creata con Keynote, però il passaggio di questo elemento sopra la testa del soggetto, che è un'altra icona creata con Keynote, determina un effetto e anche questo passaggio determina un effetto che sostiene l'argomentazione. Ovviamente ci sono molti modi per rappresentare questo contenuto audio, ce ne sono tantissimi, questo è uno dei più semplici perché utilizza delle immagini fisse, queste sono create con l'intelligenza artificiale, l'avete visto, lo sapete benissimo, qui sono dei testi con degli effetti, niente assolutamente di straordinario. Questa è una ripresa che ho realizzato una mattina che dovevo andare a fare un esame clinico, quel servizio sanitario si trovava all'interno di un palazzo che si affacciava su un mercato coperto molto bello. Non ho fatto altro che tirare fuori un vecchio iPhone, proprio vecchio, e ho girato semplicemente con iPhone in mano per questo mercato, soprattutto per registrare il paesaggio sonoro di questo mercato che è questo. Infatti la tua voce si iscrive a... Certo che vederlo dà un effetto completamente diverso rispetto a solo ascoltarlo. Ora il problema non è stabilire una scala di priorità, certo se qualcuno vi commissiona un lavoro filmico, first video è chiaro, first audio è un'altra cosa. Ma adesso a noi non interessa stabilire dei criteri qualitativi su meglio una cosa, meglio un'altra, no, perché in realtà come abbiamo visto tutto è legittimo, abbiamo diversi sensi perché questi non devono essere colpiti, abbiamo persone che hanno diverse abitudini, soggetti che si svegliano la mattina e ascoltano la radio, ascoltano podcast, altri che si svegliano la mattina e accendono la televisione, altri che si svegliano la mattina e si collegano a Instagram, altri che si svegliano la mattina e mandano messaggi su WhatsApp. Chi manda messaggi su WhatsApp poi passa su YouTube, poi dopodiché ascolta un podcast, poi dopodiché fa una... il tema è come io catturo, come io mi rivolgo a queste persone, come faccio a parlare a tutti. Se siete orientati in questa direzione non apprendete applicazioni di montaggio audio perché è perfettamente inutile. Sapete già usare delle applicazioni video come CapCat, perfetto. Se volete evolvere, se volete evolvere utilizzate Da Vinci. Perché? Perché qui siamo al vertice della produzione multimediale, cioè l'applicazione migliore che esista sul campo utilizzata da Hollywood per creare i film, per sistemare la color, per fare montaggi particolari, effetti speciali, eccetera eccetera, ma è anche un'applicazione gratuita. Potete acquistare quella a pagamento, ma per chi crea, diciamo, normalmente dei contenuti non c'è bisogno di avere quella a pagamento che comunque non costa neanche delle cifre esagerate. Anzi, avete un'applicazione completa che vi fa crescere, perché questa è anche un'altra questione. Siamo in un mondo nel quale i cambiamenti della tecnologia, dei linguaggi, del modo di fruirne, eccetera, sono, come dire, si rincorrono, sono continui. Voi pensate agli sconvolgimenti che l'intelligenza artificiale sta determinando e siamo solo agli inizi. L'altra questione è per quale motivo io mi devo limitare la mia creatività utilizzando applicazioni come, non so, audio come Audacity, che è una cosa molto diffusa, ma assolutamente demenziale da impiegare. È un'applicazione che ti lascia lì dove sei, anzi, ti porta a generare delle brutte abitudini. Ripeto, qui ci sono, per esempio, tanti insegnanti. Nel momento in cui voi proponete l'impiego di un'applicazione professionale, che però è semplice da utilizzare nel momento in cui si capisce la logica, che adesso, naturalmente vi spiego subito, consente di crescere, consente di capire quali altri moduli abbiamo a disposizione, che cosa possiamo fare e se non altro ti costringe a metterti di fronte a una domanda, e cioè che cosa voglio fare nella vita se, posto che abbia imboccato la strada di creatore di contenuti. Partiamo da CapCut e ci occuperemo molto brevemente, cinque minuti proprio, e poi dedichiamo il resto del nostro incontro a DaVinci. Eccolo qua. Lo riconoscete? Questo è il filmato che avete visto prima. È identico. Diciamo, avete due possibilità. Avete registrato direttamente con CapCut in un ambiente, avete registrato un filmato, magari una narrazione di una persona che parlava, oppure avete scritto voi stessi questa narrazione e la state recitando, intanto inquadrate l'ambiente che vi circonda. Bene. Avete un film, alla fine. avete un film e vi dico subito che se vi recate qui, dove trovate il pulsante di condivisione, voi non potete fare con CapCut una cosa estremamente importante, che sarebbe importante e anche facile da implementare per CapCut stesso, solo che non lo hanno fatto, che è quello di poter decidere se uscire solo con il contenuto audio, cioè se produrre, per esempio, un audio MP3 oppure un filmato. CapCut dai dispositivi mobili non ci consente di fare questo. Vedete, abbiamo un film pronto da condividere un film. Da nessuna parte io trovo un registro MP3. Questo è un peccato, ma non è un problema. Molte applicazioni di editing video ti consentono di lavorare e manipolare l'audio, ma poi non prevedono un'uscita isolata audio. Però vedete che qui salva video, va bene, quindi salverò il video sulla mia scrivania e poi posso passare a CapCut da computer e naturalmente o io l'ho aperto oppure all'interno di CapCut utilizzo lo spazio cloud e quindi lo trovo direttamente condiviso. Alla fine ho il mio audio qui e questa volta l'export è diverso perché qui l'export mi consente di deselezionare il video. Vedete, video sì, video no. E quindi esco in MP3. Ho fatto una scelta importante perché se avessi registrato il mio racconto con un'applicazione audio avrei solo l'audio. Ma l'ho registrata con un'applicazione video e poniamo che non debba fare un montaggio perché non so, stavo parlando di qualche cosa e anche l'ambiente in cui mi trovavo, pure un'intervista, il soggetto intervistato, la natura, eccetera, non rendevano necessario l'aggiunta di contenuti visivi. Ecco che io ho poi il mio audio a disposizione e allo stesso tempo anche il video. Però diciamo non solo perché sia nella versione per i dispositivi mobili sia in questa versione per i dispositivi per i computer, quindi desktop, abbiamo delle opportunità particolari che sono quella, per esempio, vedete questo microfonino, di aggiungere una registrazione. Dunque io posso anche partire dalle immagini, anziché da una narrazione audio posso partire da immagini, una narrazione visiva, per esempio dalle fotografie. Forse un filmato, un video è più difficile da realizzare perché non conosco delle regole, non so bene come fare o magari non ho neanche un cavalletto per realizzare un'immagine già un po' stabile, però dal mio dispositivo posso fotografare. Posso fotografare non solo persone e ambienti, ma sono in biblioteca, posso fotografare un grafico, una statistica, la citazione di qualche cosa e montare, e montare così come avete visto qui, montare proprio delle immagini su un contenuto audio che registrerò con questo microfono. Come vi dicevo prima, poi chiaramente la qualità della registrazione dipenderà dal fatto che abbia un microfono un po' decente, un collega in una stanza un po' silenziosa, ecco, queste sono questioni di cui non ci occupiamo qui. Però le ho trattate ampiamente in questi libri di cui vi ho parlato all'inizio. Non solo, una volta che ho registrato, quindi anche se vogliamo in una situazione non particolarmente adatta, ecco che ho delle funzioni che portano a dei risultati eccellenti, sempre partendo dal presupposto di fornire un contenuto non incredibilmente professionale, ma un contenuto accettabile che possa andare sui social e essere ascoltato normalmente, addirittura anche qualche cosa di più, perché il noise redass è molto buono, l'isolamento vocale che si può avere con la versione pro anche, e così via. Ci sono una serie di funzioni che migliorano realmente, realmente il risultato. E dal momento in cui sempre di più queste applicazioni utilizzano l'intelligenza artificiale, beh, io vi dico che sempre di più sono in grado di individuare rumori, di togliere per esempio ventole fastidiosi, rumori di motori, e di tirare fuori la voce, e quindi di produrre una buona trasmissione, un buon ascolto. Del resto questo lo fa anche Da Vinci, nella versione professionale, Da Vinci applica l'intelligenza artificiale per ottenere svariati risultati in tutti i campi in cui opera. E sempre di più queste applicazioni lo fanno, lo fa Adobe con Premiere, lo fanno tutti, e sta arrivando anche Apple con Final Cut, eccetera, in quest'ora. Quindi abbiamo una prospettiva che consiste nel fatto che potremmo ottenere dei buoni risultati con un lavoro non più così certosino, diciamo così, o impegnativo, ecco, così impegnativo, che fino a qualche tempo fa questi strumenti potevano richiedere. D'altra parte, se torniamo indietro di vent'anni, quando la produzione era ancora più complessa e non era nelle mani certamente anche dei profani. Il profano si può evolvere, grazie ad applicazioni più complesse da usare, più professionali, diciamo così, può evolvere, può crescere, può farsi venire delle domande, che cos'è questo, come possiamo fare, vediamo che cosa vuol dire speed, andiamo più veloce, più lenta, la cosa che si fa enormemente, e poi il video, tutta la parte video, i testi. Quindi, se ha voglia di studiare, se ha voglia di curiosare nel mondo dei linguaggi audiovisivi, beh, ha l'opportunità di poterlo fare, e anche gli strumenti per produrre qualcosa di efficace. Questo CapCut, la chiudo qui perché volevo solo centrare questi temi, quindi da mobile non avete la possibilità di uscire solo con un MP3, l'abbiamo visto prima, non avete questa opportunità, uscite solo col video, ma iMovie fa la stessa cosa, si esce solo con il video, ma dalle stesse applicazioni per computer, quindi iMovie stesso, CapCut e così via, avete l'opportunità di uscite audio. Come possiamo valutare queste applicazioni? Beh, noi le valutiamo in base alla quantità di effetti che possono essere applicati all'audio, cioè iMovie fa poco, CapCut fa di più da un punto di vista audio, ecco, questo può essere un criterio per stabilire magari una scelta. Però, sentite, se voi utilizzate CapCut, che ha pagamento, alla fine, perché è vero che è gratuita, ma ci sono alcune funzioni che sono importanti per migliorare l'audio, togliere rumori, eccetera, che cosa può fare? Beh, intanto può concentrare la creazione di contenuti in un mese o due mesi, quindi paga, non so, 10, 12, 13 euro al mese di abbonamento, anziché affittare l'applicazione tutto l'anno, prepara i suoi contenuti e poi quel mese lì decide di lavorare, quindi di produce e tutti i giorni fa qualche cosa e con 10 euro ha accesso anche gli strumenti più interessanti. Ma in realtà c'è un'altra strada che noi possiamo battere e quest'altra strada è proprio Da Vinci. Perché questa può essere un'altra strada? Perché potete facilmente imparare e quindi crescere, crescere veramente, sviluppare la vostra creatività. Che cosa dovete fare? Perché Da Vinci non è un'applicazione come CapCut che tocchi di qui, tocchi di là e alla fine qualcosa esce e dopo aver toccato un po' di volte riuscite a produrre qualcosa. Perché voi aprite Da Vinci e sostanzialmente non ci capite niente. Proprio non si sa che cosa fare una volta che si è aperta l'applicazione. Allora questo ve lo voglio spiegare. Vi voglio mettere nella condizione di operare. Quando si apre Da Vinci si arriva in una schermata di questo genere, ovviamente per voi è vuota, tranne che la creazione di un nuovo progetto. Va bene, create un nuovo progetto. Però creando un nuovo progetto voi vi trovate in una situazione di questo genere. Creiamo una nuova timeline che la chiamiamo semplicemente webinar. Prima cosa dovete creare una timeline, altrimenti non potete lavorare qua. La timeline è lo spazio di lavoro di Da Vinci. Ma è lo spazio di lavoro di qualsiasi applicazione audio-video. Perché? Perché il racconto si svolge da un tempo zero a un tempo X. Quindi corre lungo una timeline orizzontale. Da Vinci, a parte che si apre da qua, così vi mostra questa cosa, che è una pagina. Qui avete una suddivisione di Da Vinci in quella che lui chiama pagine. E va bene. Noi andiamo nella pagina di Edit, che è questa. Ci interessano due pagine. La pagina di Edit e la pagina di Farlight, che è quella con la nota musicale. E poi ci interesserà la pagina del delivery per uscire. Tutti questi nomi sono in lingua inglese. Benissimo. Questa versione però è anche in lingua italiana. Dalle impostazioni poi voi potete scegliere la lingua. Ma io continuo con l'inglese perché la traduzione in lingua italiana della versione beta è molto recente. E mi disturba un po' perché sono abituato a utilizzare la nomenclatura in lingua inglese, per cui trovarmi un misto di nomi inglesi e nomi italiani mi disorienta. Per cui per il momento con voi continuo su questa base. Quando avete creato la timeline, quindi siete pronti per operare, la parte video non ci interessa, quindi possiamo alzare la nostra visuale per concentrarci sulla parte audio. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stabilire prima di tutto dove i file vengono registrati. Questa applicazione non conserva le registrazioni al suo interno, le registra nel nostro computer. Quindi dobbiamo indicare dove c'è la rotellina delle impostazioni, qui in basso a destra, avete visto? Rotellina delle impostazioni, che cosa cerchiamo? Cerchiamo Capture and Playback. Quindi ricordatevi questa operazione, perché altrimenti poi non ritrovate più le vostre registrazioni. Quindi dalle impostazioni, Capture and Playback, e qui Shave Clip To, quindi dove salvo il clip? Noi ci occupiamo di audio, ma non importa, Da Vinci. È nato per creare un prodotto audiovisivo. Quindi browse, cercate nel vostro computer, dove volete inserire questa registrazione particolare. Oppure lasciate tutto così. Chi ha Windows, non so dove Da Vinci registri, chi ha un prodotto Apple, sa che all'interno dell'area Movie verrà creata una cartella Capture con una serie di sottocartelle e poi sottocartelle che riguardano, che, come dire, replicano un po' la struttura del vostro progetto. Quindi questo è importante per sapere dove vanno le vostre registrazioni. Perché dovete sapere dove vanno le vostre registrazioni? Perché qui, vedete qui in alto a sinistra, adesso appare in bianco il riferimento a questa registrazione. Faccio un doppio clic, la possiamo sentire. Perfetto, ok, la sentiamo, vedete che sta passando. Adesso arriva, c'è, ce l'abbiamo. Lo sai che puoi progettare un paesaggio? Perfetto, ce l'abbiamo, vedete? Ma può capitare che in realtà il nome e l'icona di questo file appaiono in rosso, questo colore. Che cosa succede quando appaiono in rosso? Cosa vuol dire? Vuol dire che Da Vinci non trova il file, non sa dove sia. Perché Da Vinci è un puntatore, punta a dei contenuti che sono sparsi nel vostro computer. Che cosa fate quando vi appare un contenuto in rosso? Beh, fate così, tasto destro del mouse, relink, selected clip. E quindi, siccome sapete dove l'avete messo, perché gli avete cambiato la cartella, eccetera, eccetera, l'andate a cercare e lui si ricollegherà e quindi tutti, magicamente, tutti questi contenuti diventeranno bianchi anziché rossi, se questo lo fate dal master. Ecco, vedete, per esempio, questo è in rosso, però non so assolutamente dove sia, perché è un file che non mi interessava, come anche questo screenshot. Eccolo qua, vedete, sono in rosso. Quindi dovrei fare questa operazione, relink, selected clip. Solo che sono dei contenuti che non ho usato, ho buttato via, quindi non li troviamo, non mi servono. Allora, ricordatevi queste due caratteristiche. Dunque, aprire una timeline e poi stabilire dove avviene la registrazione di contenuti attraverso il capture and playback che trovate nelle impostazioni. Fatto questo, passiamo, per registrare l'audio, dobbiamo passare a un'altra pagina che è quella di Farlight, quella della nota musicale. Non possiamo registrare l'audio qui, dobbiamo farlo da qua. Bene. Dovreste trovarvi in questa condizione, grosso modo. Guardate la parte destra. La parte destra ha un oggetto che si chiama Mixer. Bene, il Mixer è quella cosa che mescola, miscela i canali di registrazione. Allora, torniamo nella pagina di Edit, dove abbiamo la nostra timeline. Vedete che qui abbiamo Audio 1? Allora, intanto buona norma è nominare le tracce audio, quindi questa la chiamiamo Alberto, visto che tra un po' la registrerò io. Poi, col tasto destro del mouse qui, diciamo Add Track, aggiungi una traccia audio e questa la chiamiamo, non so, Voice Over 2. E poi aggiungiamo un'altra traccia che può essere quella dei rumori. Rumori. Ne voglio creare un po' perché voglio farvi vedere una cosa, in realtà poi non le utilizziamo, ma... E poi, diciamo, ci sarà della musica, una colonna sonora. Magari c'è un intro e quindi creeremo una traccia per l'introduzione, no? Buongiorno a tutti, benvenuti della nostra trasmissione, eccetera, perché l'intro avrà un tono di voce diverso, un volume anche della voce più alto e così via. Insomma, è buona norma creare diverse tracce, ognuna per una voce, così, poi si può regolare, o per i rumori, per la colonna sonora e così via. Se torniamo alla sezione di registrazione, adesso io sposto un po' il mixer verso qua, verso sinistra, vedete che le tracce sono aumentate, hanno il nome, quindi Alberto, tutti i cose, eccetera, questo mixer non è altro che il corrispettivo di queste tracce, quindi abbiamo queste tracce e questo mixer. Perfetto. procedo un po' lentamente così per queste prime cose, perché altrimenti vi disorientate. Effettivamente il primo approccio con Da Vinci non è facile, però basta imparare quelle tre, quattro cose e poi vedete come operare. Allora, siamo tutti arrivati qua, più o meno avete compreso, oppure avete cercato di fare le stesse operazioni. Adesso che cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo registrare, no? Qui c'è un pulsante di registrazione, faccio click, pronto, buongiorno, vi registro, ciao, 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 come stai? Bene? Oh cacchio, non succede, pronto? Pronto? Non succede niente, qua la testina scorre ma non registra una mazza. No, forse ho sbagliato, vediamo, rifaccio, pronto? Pronto, pronto, mi senti? No, niente da fare. Perché? Beh, perché Da Vinci dice, vabbè, dice, ho strullino, tu vuoi registrare qua, devi dirmi qual è il microfono e poi mi devi dire dove vuoi che io registri, su quale traccia, ovvia. Cioè, noi non abbiamo detto a Da Vinci quali sono gli strumenti attraverso i quali registriamo e le caratteristiche di questa registrazione. Quindi, io sono Alberto, cerco la traccia Alberto, ricordatevi questa operazione della massima importanza e salgo in alto fino a trovare input, ingresso, quindi l'input, benissimo, no input, quindi non c'è un input, se non c'è un input come fa a registrare? Quindi, attenzione a quello che faccio, clic su input e, naturalmente non scelgo no input, scelgo proprio input, eccolo qua. Per fortuna che Da Vinci, ma in questo diciamo tutte le applicazioni di questo tipo, sono abbastanza intelligenti da capire qual è lo strumento di registrazione che io ho collegato adesso ed è una scheda, una scheda volt 276, benissimo, quindi io seleziono la mia scheda volt, è l'audio input, eccolo qua. Poi, non basta questo, dobbiamo dire anche in quale traccia deve uscire, perché ne abbiamo diverse, vedete, abbiamo vo, quindi voiceover 2, rumori, musica, e così via. Quindi lui capisce che magari è Alberto, va bene, Alberto L, Alberto R, perfetto, quindi abbiamo un ingresso e abbiamo l'uscita su una traccia, ottimo. Adesso dobbiamo fare il patch, cioè dobbiamo collegare queste due cose, patch, e voilà. Siamo a posto, patch, e chiudiamo questa cosa, e l'input, quindi, è attivo. Allora, proviamo a vedere, faccio clic su registra, vediamo. Pronto, buongiorno a tutti, eccoci qua. non funziona, dovrebbe apparire un'onda sonora qua, qualcosa che mi dica che sto registrando, invece non succede niente. Pronto, pronto Houston, Houston abbiamo un problema. Mi sembra proprio di sì. Allora non registra, ma che strano però, abbiamo stabilito l'input, vediamo, è tutto a posto, volt, volt, tutto collegato, patch, perfetto, rifacciamo e non registra. Niente. Allora, vedete che voglio partire dagli errori, che vedo che le persone fanno, dobbiamo armare la registrazione, o io preferisco dire attivare la traccia, la traccia di registrazione è Alberto, R sta per registrazione, eccola qua, attiviamo la registrazione, quindi attivate R, registra. Quindi adesso io cosa faccio? Attivo R e registro una frase. R è qua. Oh, finalmente, eccolo qua, la famosa onda sonora, onda su onda, eccetera, eccetera. Del resto, siamo vicini all'estate, che forse balzeremo, come dicevo all'inizio, per passare direttamente all'autunno. tolgo R e ascoltiamo. Oh, finalmente, eccolo qua, la famosa onda sonora, onda su onda, eccetera, eccetera. Va bene, no? Diciamo, bisogna entrare un po' nella logica, non è un'applicazione intuitiva, cioè non è una di quelle applicazioni, che uno si scarica sull'iPad, e poi con le dita, tin, tin, tan, tan, e alla fine cerca di capire come funziona. No. Allora, abbiamo la nostra registrazione. Adesso che cosa facciamo? Attenzione, attenzione. Vi dico proprio quali sono le operazioni così preliminari, poi vi sarà facile poi ripeterle queste operazioni. Torniamo nella nostra timeline. Dunque ce l'abbiamo, però ascoltiamola un momento. Oh, finalmente, eccolo qua, la famosa onda sonora. Mi dite da quale orecchio state ascoltando? Sinistro o destro? Sinistro. Onda sonora. Esatto, sinistro. Quindi non è stereo. La traccia è stereo, ma la registrazione è mono. Nessun problema, perché tanto lo stereo che cos'è, non è altro che la duplicazione dello stesso canale. Quindi, vi insegno a trasformare in stereo la traccia che DaVinci ha registrato in mono. Guardate, clip attribute, col tasto destro del mouse sulla traccia, che non è video ma è audio, quindi andiamo in audio. E poi qui, vedete, è stereo, perché noi l'abbiamo creata stereo. Però, dobbiamo dirgli che deve ripetere ciò che è stato registrato nel canale 1, lo deve ripetere anche per il canale di sinistra. ricordatevi questa semplice operazione. Se qui non fosse stereo, perché per sbaglio avete, non so, creato un canale mono, e vabbè, passate da mono a stereo, chiaramente, da mono a stereo, e poi l'embed channel deve essere la stessa, perché una registrazione l'abbiamo fatto, è identica, la passerà semplicemente da un canale all'altro. Et voilà. Riascoltiamo. Oh, finalmente, eccolo qua, la famosa onda sonora. Onda su, onda su. Poi c'è un'altra operazione da fare, che vi consiglio, dopo aver svolto tutta la vostra registrazione. Dopo, e quindi la registrazione potrebbe anche essere così. Che cosa fate? Cioè, tasto destro del mouse, normalizzate i volumi. Quindi, normalize audio level. È una cosa interessante da studiare. Scegliete il true peak, e poi scegliete qualche cosa che vada tra meno 9 e meno 3, grossomodo decibel, e l'audio viene normalizzato attorno a questo volume. Oh, finalmente, eccolo qua. La normalizzazione è un argomento interessante, ma trovate sicuramente, a parte nei miei libri dove viene trattato il tema, però trovate informazioni anche su internet. brevemente significa questo. Nel momento in cui voi uscite con il podcast, la vostra registrazione in, per esempio, Spotify, oppure in YouTube, oppure, non so, in qualche altro canale, voi dovete sapere che queste piattaforme prendono la vostra uscita audio e la brutalizzano tenendo, comprimendo i volumi all'interno di un certo range. Questo però lo fanno appunto in modo brutale, cioè tagliano proprio i volumi e vengono tagliate anche delle frequenze. Invece, in questo modo, voi state sotto i decibel necessari. Se state intorno a meno 9, poi i tagli che vengono prodotti da altre piattaforme sono impercettibili e quindi vi trovate con un podcast che suona bene. Un'altra soluzione è sempre con clip, no, scusate, normalize, è di impiegare, per esempio, cosa che io faccio molto spesso, è di impiegare i settaggi di YouTube direttamente. Io ho visto che questa cosa funziona bene. Se avete diversi clip, cosa fate? Li selezionate tutti e poi farete così. Normalize, qua, audio, e scegliete il relativo perché tanto è la stessa voce che parla, no? Quindi mettiamo che qui il volume sia più basso, qua più alto. Se scegliete un'applicazione di questo effetto in modo indipendente, voi trate dei risultati che non vanno bene, questo non lo sentirete più, gli altri, eccetera. Ma essendo la stessa voce, chiaramente sulla stessa traccia, quindi sulla stessa registrazione, scegliete il relativo e quindi lui fa il calcolo come se si trattasse di una registrazione unica. Persone diverse saranno su tracce diverse. Quindi qui ci siamo, siamo a posto. Il podcast è pronto nella sostanza perché devo solo operare i tagli necessari, no? Qui aggiungono, non so, i rumori. L'avete visto nell'altra timeline del paesaggio sonoro, vedete? Qua ci sono, non so, dei rumori e quindi si è lasciato uno spazio perché, ah no, c'è un'altra voce quindi si è lasciato uno spazio. Qui i rumori invece sono un po' più alti, un po' più bassi a secondo delle necessità a cui la musica potrebbe anche risultare una cosa di questo genere. Però torniamo alla nostra timeline. Adesso vi insegno a tagliare e montare il clip, cioè quelle operazioni indispensabili che vi serviranno anche per il video. Anche queste sono molto semplici, poi abbiamo finito, poi c'è solo l'uscita e siete a posto con le prime operazioni. Quindi ricordatevi questo, avete una tastiera, B vuol dire blade, quindi premete il tasto B e vedete che il cursore si trasforma in una lametta, B blade, A arrow, quindi A è una freccia, con la freccia io sposto l'oggetto, col blade lo taglio, vedete, taglio, blöd taglio, A arrow sposto. E poi abbiamo un'altra cosa bellissima che si chiama T trimming, T trimming, faccio il trim, sposto il contenuto audio, ve lo faccio vedere meglio in questo modo, quindi chiudo così, quindi che cosa ho fatto, guardate, ho preso solo un pezzetto di audio, da qui a lì, anzi lo facciamo così e riduciamo anche lo zoom, voglio farvi vedere bene, ecco, se io ho tagliato questo audio da una parte all'altra, che cosa è successo, è sparito? No, il file c'è sempre, vi ricordate? Questo file si trova in, si trova in find in media pool, eccolo qua, si trova qui, questo è il file originale, perfetto, che noi abbiamo montato qua, quindi esiste, non è che è stato tagliato, perché esiste sul computer, vi ricordate? All'inizio abbiamo stabilito dove avviene la registrazione di questi file, però, con la funzione T trimming, io ecco che posso scegliere il punto di montaggio, il punto di montaggio sarebbero i punti di in qua e di out qua, sono due punti di montaggio, punti di in e di out, scorrendo il mio file in questo modo, poi, il trimming fa delle cose pazzesche, interessantissime, anche per il montaggio filmico, ma noi basta così, quindi vi ricordate? A arrow, B blade, T trimming e siamo a posto, poi, da A freccia, quindi dalla freccia A, poi con queste maniglie posso spostare e organizzare. Diciamo che siamo arrivati alla fine della nostra spiegazione, rimangono fuori gli effetti di cui vi faccio un accenno, ma prima usciamo, usciamo con la nostra registrazione, dove? Nella pagina di delivery. Allora, qui, titolo, è il titolo, banale, webinar, va bene. Poi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo deflaggare l'export video, ce ne frega niente il video. Stiamo creando un podcast, ci interessa l'audio, quindi deflagghiamo il video, passiamo a audio, audio, togliamo mp4, che non ce ne può fregare di meno, e passiamo a mp3. Tutto il resto non ci interessa, ci interessa solo mp3, e ci interessa l'mp3 a, gli abbassiamo anche la qualità, a 256. Perché? Perché la maggior parte delle piattaforme viaggia su questi settaggi, quindi è inutile avere, è inutile far fare alle piattaforme una conversione ulteriore, perché noi non sappiamo come la fanno, con quale qualità, eccetera. Quindi lo facciamo noi. 256 mp3 e siamo a posto. Va bene, fatto questo, noi abbiamo operato nella parte di sinistra e quindi, quindi niente, adesso noi dobbiamo trasportare quello che abbiamo creato, cioè i settaggi, le qualità dell'uscita, dobbiamo portarle da questa parte e quindi faremo così. qui sotto c'è un pulsantino che si chiama add to render queue, quindi, tac, l'ho premuto e che cosa è successo? Da questa parte è arrivato questo oggetto. Quindi questo che cosa significa? Beh, significa io posso, qui ho tutte le timeline su cui lavoro, posso timeline, una timeline per volta, fare questa operazione, mi ritrovo tutti i job qui e poi render all e basta. Lui l'ha già fatto, vedete? Perché, beh, è niente questa roba, sono pochi secondi. Abbiamo realizzato la nostra uscita. È tutto qui, perché non abbiamo tante altre cose da fare, tranne che, allora, perché non abbiamo tante cose da fare? Perché noi partiamo dal presupposto che piuttosto di lavorare sull'editing e quindi sulla qualità della voce, eccetera, eccetera, spendiamo 200 euro per una scheda e un microfono decente che ci consentano di realizzare una buona trasmissione. Di questo non parliamo, ovviamente. Ricordatevi che spazzatura in entrata, spazzatura in uscita è un vecchio detto che vale anche per l'audio. Dunque, io consiglio di evitare di fare qualsiasi altra operazione e partire dal presupposto di registrare bene con un buon microfono, una buona scheda audio. Però, volendo fare, diciamo, essendo costretti magari a operare perché, che ne so, siete in classe quindi ci sono dei rumori di fondo oppure la registrazione non è eccezionale, siete giornalisti professionisti ma non potevate mancare quell'intervista, proprio quella battuta di quel personaggio, beh, allora qui Da Vinci diventa un vero e proprio studio di produzione e di registrazione audio assolutamente di grandissimo livello e vi spiego solo diciamo così come orientarvi. Qui siamo nella pagina di edit, ripeto, pagina di edit e che cosa possiamo fare nella pagina di edit con il nostro audio? Beh, selezionate i clip e poi qui potete agire sul volume questo è simpatico perché potete passare i contenuti sul canale destro per esempio e poi dal canale sinistro al canale destro e viceversa va bene poi qui cambiate il tono della voce vi ricordate quella vocina che entrava nell'altro perfetto va bene poi avete un equalizer un equalizer questo equalizer è utile perché è così è solo uno strumento molto rapido che applica un effetto di equalizzazione grafico che voi manovrate direttamente col cursore del mouse per esempio seleziono questa traccia se faccio così alzo i bassi che si trovano da questa parte qui trovo anche i rumori magari la famosa poi qui invece posso portare su gli alti onda ecco sentite la famosa onda sonora ok è così io ho esagerato tirando su molto questo in realtà potete semplicemente dare un po' più di corposità alla voce in questo modo e tagliare magari un po' gli alti così se la voce è femminile la famosa onda oppure se avete anche di rumori magari un po' fastidiosi potete fare così con questa curva voi tagliate le basse frequenze che sono quelle che potete tagliare tranquillamente perché la voce non viene registrata in questo punto però vengono registrati dei rumori come per esempio l'evento del computer sono fastidiose non eliminate completamente il rumore però qualcosa ottenete la famosa quindi fate delle prove però questo diciamo serve per operare magari sui singoli clip oppure su tutta la traccia nel momento in cui utilizzate siamo sempre nella pagina di edit gli effetti che si trovano qua abbiamo gli effetti audio ci sono quelli video eccetera eccetera quindi questi servono per applicare dall'edit a un particolare clip lo trascino lo trascino sul particolare clip e quindi posso lavorare in questo modo oppure lo trascino sulla traccia guardate clip oppure traccia a che cosa servono questi effetti beh servono a togliere per esempio un po' il rumore ecco il deumer per esempio serve per quell'effetto che vi dicevo prima quando sentite magari una ventola eccetera magari in questo punto voi sistemate il deumer voi provateli provate e otterrete dei risultati questi sono degli effetti da che cosa dal sezione effetti della pagina perché perché stiamo facendo semplicemente un lavoretto così di aggiustamento se invece vogliamo lavorare in modo più complesso guardate che cosa succede che ci rechiamo nella pagina di Farlight e allora qui è tutta un'altra storia perché qui abbiamo uno studio di produzione registrazione audio a tutti gli effetti perché abbiamo un mixer che lavora su tutte le tracce e per ogni traccia noi possiamo stabilire quali sono gli effetti da applicare questo significa che automaticamente la traccia interessata riceverà le istruzioni che determinati effetti daranno loro adesso vi ricordate quei due articoli su blog di cui che avevo mostrato all'inizio quei due articoli sono estrapolati dal mio libro registra e pubblica il podcast dove ci sono due capitoli interi dedicati a da vinci agli effetti eccetera eccetera come li applichiamo allora guardate qui avete effect effect quindi da effect voi avete una caterva di effect ecco distortion pitch per esempio restoration restoration far light vi porta a noise reduction il noise reduction è interessantissimo perché sembra complesso ma bisogna poi capire un po' come funzionano queste cose ma noise reduction ha un pulsante di ascolto solo del rumore quindi voi mandate in play la traccia attivate il check di listen to noise only e voi sentite solo rumore e quindi agendo per esempio sulla manopola delle frequenze così voi intensificate o meno il taglio del rumore ma sapendo che tagliate anche un po' la voce chiaramente ma potete regolarlo con una precisione incredibile e poi questo anche stabilisce il rapporto per esempio tra la voce originale e la quantità di effetto che dovete applicare insomma la sensibilità naturalmente questo è molto importante e così via qui avete tutti i avete centinaia stiamo parlando di centinaia di effetti da applicare alla voce ma che cosa vi voglio dire vi voglio dire che qui di solito voi trovate degli effetti preimpostati però guardate io ho albert universal 2 albert universal corso ho enrica laura laura microfono vicino più basso perché è come registro podcast di podcaster quindi ho creato dei preset che funzionano con il loro tipo di voce e di ambiente quindi magari c'è sempre un rumore fastidioso oppure non so la voce è troppo alta clip e così via e come si fa beh con il tasto più ecco che io una volta che ho impostato tutto basta che dia un nome questo lo chiamo webinar chiudo da vinci lo riapro e creo un nuovo progetto io trovo qui la mia impostazione webinar quindi per ogni effetto posso creare differenti impostazioni tutte quelle che voglio senza nessun limite posso duplicare un'impostazione poi variarla e quindi cambiare crearne un duplicato se questo pulsante giallino è attivo l'effetto noi lo sentiamo il risultato oppure lo disattivo e torno alla registrazione normale quindi attivo ascolto e non attivo non ascolto e naturalmente posso aggiungere qua tutta una serie di effetti per esempio il vocal channel molto interessante che è che è l'oggetto dell'articolo che vi ho mostrato il vocal channel consente di applicare per esempio un filtro passa alto guardate cosa succede filtro passa alto perché perché vuol dire che taglia le frequenze basse dove ci sono dei rumori tra l'altro nel mio libro ecco ho creato questa tabella che riporta l'ampiezza delle frequenze e poi tutte le caratteristiche della voce maschile femminile in rumoria quale frequenza eccetera e quindi praticamente è facile poi tagliare direttamente o utilizzare il vocal channel oppure il noise reduction eccetera utilizzarli ecco esattamente sulle frequenze stabilite adesso vi insegno un'altra cosa però cioè vi insegno adesso stiamo solo così parlando esplorando un po' voglio prendere l'equalizzatore a 31 bande di cui avete appunto l'articolo dunque guardiamo la tabella così vedete che sono le frequenze va bene queste frequenze sono queste queste sono queste quindi voi sapete che un certo rumore si trova più o meno in questa zona che cosa fate? fate due operazioni la prima portate il volume al massimo perché così lo sentite bene il rumore poi lo abbassate tornate come era prima poi lo portate più in alto ancora poi lo abbassate poi lo portate più in alto tac scoprite che qui qui lui raggiunge il picco del disturbo perfetto e allora fate così zac e lo togliete magari lo togliete troppo farete così però avete sentito che un po' c'era anche qua allora farete così e un po' magari anche qua perfetto mantenete la qualità della voce togliete il disturbo per esempio date più corpo alla voce qui così date più aria alla voce così togliete i clip che non servono a niente queste frequenze qua e queste qua che non servono a niente allora è divertentissimo però uno poi non registra più il podcast perché si diverte a giocare con queste cose passa il tempo però non ha non ha nessuna cioè da questo punto di vista non ha nessun senso veramente utilizzare applicazioni audio perché poi noi ritorniamo quindi avete visto quanti sono tutti questi effetti il reverbro è fantastico il pitch cioè sono tutti veramente incredibili li potete applicare anche da effect che abbiamo visto prima solo che da effect vedete li potete sempre da firelight selezionare sui singoli clip quindi come tutte le applicazioni che si rispettino l'interfaccia grafica vale dire le GUI guideline user interface che sono state elaborate dalla Xerox negli anni 80 stabiliscono che un'applicazione professionale vera deve poter svolgere le stesse identiche operazioni in più punti e in più modi per dare la possibilità all'utente di fare in modo che sia l'applicazione ad adattarsi alle esigenze e comportamenti del soggetto e non il contrario ecco perché io prediligo sempre le applicazioni professionali in tutti i casi Adobe se si tratta di grafica Da Vinci per il montaggio eccetera eccetera perché rispettano fedelmente queste CapCat non è una di quelle applicazioni ovviamente però va bene si usa si fa certamente torniamo indietro l'ultimissima cosa vogliamo aggiungere dei contenuti video perché abbiamo creato il podcast va tutto bene abbiamo la nostra uscita mp3 perfetto e poi qui non so voglio aggiungere un'immagine perfetto aggiungo qui e quindi ho il mio video qua la famosa onda sonora la famosa onda perfetto basta aggiungo le mie immagini le mie grafiche e semplicemente creo un podcast che è erogato su YouTube per dire o in Vimeo o in Instagram anche un aspetto visivo basta io non mi addentrerei di più ovviamente poi ricordate gli step iniziali e poi potete cominciare a operare che ha già qualche dimestichezza naturalmente con applicazioni di questo genere più o meno poi si orienta altrimenti ci sono i manuali su un tutorial ci sono io stesso che poi ogni tanto faccio dei webinar specifici anche su determinati aspetti e quindi si può andare avanti però questo vuol dire entrare in una logica multicanale integrata che sempre di più sta determinando la necessità di produrre contenuti che siano facilmente fruibili attraverso diversi canali media senza dover rifare tutte le volte il lavoro e questo vale anche per una produzione professionale perché è una necessità per tutti la strada attraverso la quale poi si risolve ovviamente può essere differente chiaramente ci sono delle modalità anche degli interessi un modo anche di operare che poi è personale quindi può essere anche differente però il problema è posto per tutti e sempre di più lo sarà la frantumazione della cultura di massa oggi da una parte determina la necessità di una unificazione della produzione dell'altra e quindi figure anche meno specializzate che da un certo punto di vista sono specializzate nella costruzione diciamo della narrazione del montaggio in un certo modo di determinati aspetti ma che poi non possono limitare la loro cultura a quello un po' anche perché sono poi tagliate fuori dal mercato del lavoro e specialmente poi se parlate con dei giovani avete a che fare con dei giovani beh è bene dare loro un approccio corretto un approccio corretto ai vari sistemi produttivi la sedicesima stagione continua con altri webinar spero interessanti questo era molto tecnico l'ho proposto perché mi sembrava importante qui è qui qui è qui è qui è Grazie a tutti.